Thomas Manfredini, si sta ricordando ancora la partita contro il Milan? Sì, è stata una grande vittoria, meritata perché credo proprio che l'Atalanta non ha rubato niente. È stata una di quelle partite che ricorderemo, perché andare a San Siro e giocarsela a viso aperto come abbiamo fatto noi, creare anche occasioni, non è da tutti. Abbiamo dimostrato ancora una volta che l'Atalanta, se vuole, può far veramente bene, anche quest'anno può far veramente un grande campionato, lo speriamo. Grande prestazione dell'Atalanta, tu sei un difensore, parliamo della difesa, grande prestazione della difesa. Sì, sì, ma anche l'anno scorso noi siamo stati la quarta miglior difesa del campionato, insomma, ce lo siamo detti dall'inizio che parte tutto dalla fase difensiva, le nostre vittorie, diciamo così. Cerchiamo sempre di dare il meglio per non prendere gol, in modo che poi noi davanti sappiamo che abbiamo dei grandi giocatori e dei giocatori che possono risolvere in qualsiasi momento. Se vinci 1-0 o 2-0 o 3-0, poco importa, l'importante per noi è vincere e non prendere gol, così è stato anche domenica e siamo entusiasti anche perché abbiamo preparato la partita in un certo modo e così è venuta la vittoria. Thomas, ci sono delle fotografie che sono bellissime perché a fine partita si vede proprio la gioia, la soddisfazione di aver portato a casa questo risultato importante. C'è una particolare tua con il secondo di Colantuono, Beni, che ti dà un buffetto in testa? Sono emozioni che fai fatica a spiegare, però al momento, al triplice fischio, ti viene fuori tutto, è stato bello perché vincere in uno stadio così importante fa sempre piacere. Io ho avuto la fortuna di vincere già con l'Atalanta, però ogni vittoria ha sempre un sapore diverso e speriamo di avere altre emozioni, altre vittorie così. Però Colantuono oggi vi ha già riportato con i piedi per terra, Atalanta-Palermo, c'è questa sfida, c'è questo cambio d'allenatore, insomma c'è questo Palermo da affrontare. Sì, oggi abbiamo già ripreso, perciò sicuramente la nostra testa, lasciamo i tifosi pensare a questa vittoria, noi la nostra testa è già proiettata per questa sfida difficile, anche perché poi insomma il passo falso in casa l'abbiamo già dato, dobbiamo davanti ai nostri tifosi regalargli questa vittoria, una prestazione importante per continuare questo momento positivo in modo da poi proiettarci su qualcosa di, non di importante, ma per capire qual è l'Atalanta e cosa possiamo dare noi in questo campionato. L'ultima battuta è il cambio dell'allenatore, si fa sempre questa domanda quando si verificano queste situazioni. Ma io non lo so perché, come dicevo prima, con noi, con Sannino non abbiamo mai vinto in quattro partite, perciò non so se sia stato un bene o un male. L'unica cosa è sicuramente il cambio dell'allenatore per il gruppo Palermo, sicuramente qualcosa cambierà, darà una scossa sicuro, ecco, io non so i problemi loro, però sicuramente qualcosa cambierà. Speriamo che non cambi da domenica ma dalla prossima settimana ancora.